ciao a tutti e bentrovati sul mio canale feri asmr grazie per aver scelto questo video asmr rilassante prima di tutto vi invito a indossare le cuffie oppure gli auricolari per ascoltare meglio la mia voce che sarà sussurrata durante tutta la durata del video questo è un video che servirà per farvi addormentare sarà un video di chiacchiere, il whispering appunto in cui ci sarà anche un trigger oltre alla mia voce che io trovo fantastico e che spero piaccia anche a voi sto parlando del suono dei pezzi di un puzzle questo puzzle è il regalo di uno di voi in particolare di Alessandro vi ringrazio tantissimo grazie grazie Alessandro per questo dono lui lo ha scelto direttamente dalla mia lista amazon a proposito se volete dare un'occhiata alla mia lista amazon la trovate qui giù in descrizione nell'info box e se avete voglia di fare un regalo al canale potete scegliere tra tantissimi oggetti che ho inserito nella lista che servono sia per implementare l'attrezzatura sia come nuovi oggetti da utilizzare nei prossimi video roleplay o trigger comunque questa volta durante questo video non andrò a comporre il puzzle quello lo riservo per un altro video bensì scarterò con voi il contenuto della confezione e vi farò ascoltare il suono dei vari pezzettini nel frattempo vi racconterò un po' come sta andando questa quarantena e quali sono le ultime novità mi raccomando se non sei ancora iscritto o iscritta puoi farlo cliccando il pulsante iscritti che è qui sotto alla finestra del video e soprattutto attiva la campanellina assicurandoti di scegliere ricevi tutte le notifiche per non perdere i prossimi video detto questo direi che sia il momento di iniziare come potete notare questo puzzle riproduce un famoso quadro di Van Gogh notte stellata o starry night dentro troviamo il messaggio di Alessandro che dice cara Fatina Fede nella speranza che questo pensiero ti giunga prima della fine di questo particolare periodo ti auguro di cuore ogni bene un abbraccio da oltre un metro di distanza tu e il fetto Alessandro mi fa tanto 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 piacere ricevere i vostri pensieri i vostri messaggi d'affetto e tra l'altro stavo proprio pensando che tra pochi giorni sarà il mio compleanno sarà il 6 maggio e sarà un po' triste doverlo trascorrere qui in quarantena forse se ancora non avranno dato la possibilità alle persone di spostarsi vorrei tanto festeggiarlo insieme a tante persone care ma immagino che non sia possibile ma immagino che non sia possibile che non sia possibile adesso vado ad aprirla cercando di non fare troppo rumore ecco ecco tutti i pezzetti del puzzle sono principalmente colorati con i toni del blu e questo rende già la visione molto molto rilassante inoltre hanno un profumo buonissimo sanno di libro nuovo non so se avete presente la carta dei libri nuovi e il suo odore adesso mentre chiacchiererò con voi utilizzerò un po' questa manina per fare i grattini per fare i grattini e andrò a toccare i pezzetti di cartone intanto voglio raccontarvi che cosa sto facendo in questi giorni e soprattutto chiedere a voi se avete trascorso un buon tempo un buon tempo rilassante nonostante le preoccupazioni dovute al periodo particolare mi interessa mi interessa soprattutto sapere se siete degli studenti come state affrontando lo studio da casa dunque io come vi ho già detto in un altro video ma soprattutto come vi ripeto spesso su instagram e a proposito se volete seguirmi anche lì avrete la possibilità di conoscere altri aspetti della mia vita che mostro molto meno qui su youtube aspetti un po' più privati e pensieri bene come vi ho detto diverse volte io mi sono dedicata a un progetto questo è un progetto lavorativo ma che riguarda anche il canale ASMR e diciamo che lo sviluppo di questo progetto non è semplicissimo ma siamo quasi in dirittura d'arrivo quindi questo mi ha permesso di occupare le mie giornate in maniera piuttosto densa ecco sembra la pioggia che batte sui denti ho avuto la fortuna di non trascorrere questa quarantena da sola anche se sono una persona a cui la solitudine piace abbastanza penso che in un momento di difficoltà come questo sarei probabilmente impazzita da sola soprattutto da sola insieme a Jessie che è molto 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 esigente e solitamente si gestisce in due quindi ho avuto appunto questa fortuna di non rimanere da sola e ho avuto la compagnia di una persona che sa starmi vicino nel modo giusto per la maggior parte del tempo ci sono ovviamente anche nel mio caso alcune incomprensioni a volte ma diciamo che se la volontà questo vale in qualsiasi tipo di rapporto se la volontà è quella di creare un clima di pace si riesce sempre a trovare la soluzione giusta intanto i vicini devono avere aperto il rubinetto dell'acqua non so se riusciate a sentirlo abbiate pazienza ma ovviamente sono tutti in casa quindi i rumori in questo periodo sono un po' più forti anche durante i video spero non vi dia troppo fastidio comunque oltre a questo progetto lavorativo che però ha a che fare con il canale ASMR e che spero di potervi svelare già durante l'estate ho iniziato un nuovo lavoro che posso svolgere da casa purtroppo non è un lavoro diciamo inteso nel classico senso del termine non è un lavoro stabile e sono ancora in un periodo diciamo di prova anche perché devo valutare quanto possa essere utile e quanto possa aiutarmi dal punto di vista della retribuzione economica però è un lavoro che mi piace che mi fa stare parecchio al computer e che è nell'ambito del diciamo nel mio ambito di competenze quindi nell'ambito in cui ho lavorato negli ultimi anni sapete che la mia situazione lavorativa personale familiare soprattutto è un po' cambiata ultimamente ho avuto proprio degli sconvolgimenti uno dopo l'altro e quindi sono in fase di riadattamento non è sempre facile adattarsi ai cambiamenti almeno per me non lo è però da ogni cambiamento arriva sicuramente qualcosa di buono fosse anche semplicemente la possibilità di conoscerci sotto nuovi aspetti di conoscere come reagiamo a certe situazioni che la vita ci pone davanti alla fine di questo periodo di quarantena dovrò vedere delle persone ammiccare e vorrò vedere delle persone ammiccare ma soprattutto con alcune ci sarà la necessità di sviluppare una sorta di progetto per comprendere un po' a che punto ci si trova e probabilmente dopo questo periodo ci sarà da affrontare un trasloco e non so sinceramente se sono pronta a volte a volte è molto strano il mio ruolo perché molti 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 moltissimi di voi mi scrivono messaggi soprattutto su instagram ma a volte anche tramite email oppure qui sotto nei commenti di youtube in cui mi chiedono consigli su come affrontare situazioni difficili della vita qualcuno di voi vede in me un'amica o una persona in grado di confortarvi e io voglio essere anche questo in qualche modo anche se la smr è principalmente intrattenimento ma anche rilassamento e aiuto e conforto certamente però anche io sono una di voi e ho tanti momenti di sconforto mi capitano e quindi in quei momenti sono io ad aver bisogno di voi delle vostre parole dei vostri pensieri felici e della vostra vicinanza grazie a proposito a tutti coloro che hanno deciso di abbonarsi anche questo mese al canale ovviamente gli abbonamenti sono assolutamente facoltativi ma chi si abona al canale mi dà una mano a migliorarlo nell'attrezzatura e nell'acquisto di oggetti da mostrarvi nei video così anche chi decide di mandarmi dei regalini dalla lista amazon grazie 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 di cuore a tutti voi e anche alle persone che ogni giorno che pubblico un nuovo video commentano e lasciano un mi piace i mi piace sono molto molto importanti sia perché mi aiutano a comprendere quali video preferite sia perché sostengono il canale che ha molto bisogno soprattutto di voi per continuare a esistere il canale il canale il canale al voce il canale spero che questo suono vi abbia rilassati e spero che come un puzzle anche la vostra vita riesca pian piano a rivelarvi un disegno componendosi piano piano pezzetto dopo pezzetto auguro a ognuno di voi di poter trovare gli incastri giusti e le persone che matchano con voi nel modo migliore, nel modo più giusto perché ognuno porti il proprio significato all'interno di questo grande, 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 grande disegno che è la vita adesso vi lascio la buonanotte 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 e noi ci vediamo come al solito se vi va al prossimo video bacini fatosi adesso adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della ferigrue ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte buonanotte grazie grazie grazie